Apriamolo subito con l'Ariete. La giornata, specialmente per quanto riguarda gli affari, le operazioni finanziarie e i movimenti di denaro, richiede ponderatezza e buonsenso. Toro. Sostenuti dalle stelle, recuperate le posizioni perdute dopo uno scivolone. Vi sostiene la giusta amalgama di intuizione e razionalità. Rinnovate uno schema o rinverdite un rapporto senza scardinarlo. Gemelli. Gli astri vi fanno perdere colpi e potreste dover saldare qualche vecchio debito dimenticato a essere alle prese con una spesa imprevista. Esprimete con sincerità i vostri stati d'animo e non fatevi influenzare dalle insicurezze di chi vi è vicino. Cancro. Un bel venerdì vi aspetta con le stelle che vi sommergono di coccole. Incoraggiato dalla vostra dolcezza, il partner risponde per le rime. Leone. Per dei felini come voi, l'amore deve avere il sapore della preda da cacciare. In mancanza di bersagli appetibili, risparmiate le munizioni. Vergine. L'ostilità degli astri senza avere riscontri sul piano pratico destabilizzano il vostro tono emotivo. Non reagite avventatamente, aspettate che passi. Lievi divergenze con i collaboratori vi rendono insofferenti. Bilancia. La capacità di adattamento vi consente di sperimentare situazioni nuove e di trovare occasioni per valorizzare alcune idee chiuse nel cassetto. Scorpione. Un fantastico aspetto planetario vi dà la prova della profondità dei sentimenti e rafforza il legame esistente indirizzandolo verso mete più solide. Momenti piacevoli in cui la passione acquista tenerezza. Sagittario. Lanciare accuse o recriminare su errori commessi non è costruttivo, specie se a guidarvi non è lo spirito di giustizia ma solo un inutile ripicca. Capricorno. Beneficiando di alcuni astri avrete opportunità per trarre profitto da affari e viaggi o per dare un contributo a un progetto comune. Un maggior spirito di collaborazione appiana le questioni che mettono in subbuglio la vita domestica. Acquario. Qualcuno vi procura forti emozioni ma siete già impegnati? Prima di un colpo di testa valutate bene. Per realizzare i vostri desideri invece controllate il bilancio. Il denaro arriva ma non fatevi tentare dal mercato. Pesci. La sensibilità raggiunge vette da primato. Peccato che si trasformi in suscettibilità e che basti un'osservazione per scatenare una tempesta di emozioni. Tirate fuori la grinta e non permettete che giudizi e critiche sparati a zero vi feriscano. Grazie. 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 Grazie.